Ebbene sì, maledetto Carter, hai vinto anche stavolta. Piuttosto ragazzi, arrestate questo armadio! L'armadio? Arrestarlo? E perché mai capo? Perché questo non è un armadio, bensì Stanislaw Molinski in uno dei suoi diavolici travestimenti. Ebbene sì, maledetto Carter, hai vinto anche stavolta. Questa non è una vera sfia, è nemmeno una donna. Ti ha riconosciuto, tu sei Stanislaw Molinski, genio del trasformismo e mio implacabile nemico. Ebbene sì, maledetto Carter, hai vinto anche stavolta.